Signore Mintz, grazie, è un piacere conoscerla e avere la sua firma anche nel nostro progetto. La spiego un attimo un po' di più, questa è la coppia del Canone di Paganini, fatta da Luis, mio padre, a Cremona, e la intenzione di questo progetto è di raccogliere il massimo di firme possibili di grandi violinisti per tornare questo strumento anche più speciale e dopo con tutte le firme questo strumento verrà messo in asta e tutta la vendita sarà donata ad un'istituzione in Brasile che aiuta bambini attraverso la musica. E quale istituzione? Si chiama Instituto Baccarelli. Ah sì, conosco la sedia. Sì, esatto. Allora, abbiamo cominciato questo progetto da tre settimane fa quando Francesca ha suonato l'istrumento e Luis l'ha aperto. Adesso lo apro, ci sono qualche piccoli trucchi. Sì, bisogna mettere... C'è questa, c'è una piccola travata che Luis ha messo. Ma anche lei è l'utera? Io non più, ho iniziato come apprendista, adesso faccio le vendite, più queste cose, la gestione della ditta. Noi anche con le costruzioni facciamo anche vendite di strumenti antichi, riscaldi e tutto. Allora c'è bisogno di uno per fare anche il business. E questo sono io. Sì, sicuramente. Questa è la tavola e l'istrumento all'interno con le firme. Ieri abbiamo raccolto le firme di Joshua Bell e Daniel Hope, settimana scorsa da Agustin Adelic e Philip Quint. E stiamo cominciando adesso con questo giro del mondo. Bene. E questo come l'originale, anche i chiodi come l'originale che tengono il manico in tutti i dettagli, sporco anche come l'originale. Partiamo per la firma? Sì. Allora, magari possiamo iniziare con una piccola prova per provare la penna. Perfetto. Opposto anche questo. Perfetto. 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 Bello. Grazie mille. Perfetto. 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 Grazie a voi. Perfetto. E spero, vi auguro una buona fortuna con questo strumento. Grazie mille. Sarà comunque storico sicuramente. Sì, speriamo. Sì, l'anno prossimo avremo più notizie sull'asta e speriamo che sia. Perfetto. E tanti saluti alla signora. Grazie. Grazie mille. Sì?